Tutto parte dai dirigenti scolastici e dai genitori di alcune zone di Campomarino che danno modo ai carabinieri della compagnia di Termoli di aprire un'importante attività di indagine, indirizzata a smascherare due spacciatori interessati a coinvolgere nel consumo di hashish e marijuana ragazzi dagli 11 ai 14 anni, che prima venivano allescati con dosi gratuite per poi vessarli e sottoporli a violenze fisiche e verbali per il mancato pagamento della roba. Ne parliamo con il Maggiore Fabio Figuciello, comandante della compagnia di Termoli dell'Arma dei Carabinieri. L'attività scaturisce da un tipo di rapporto di fiducia instaurato dai carabinieri con le scuole. Noi peraltro portiamo avanti da numerosi anni come Arma dei Carabinieri il progetto di legalità, cioè ci rechiamo presso le scuole e presentiamo quelli che sono i principi di legalità agli studenti ed è un modo anche appunto per conoscersi e per instaurare un rapporto di estrema fiducia con il corpo docente e con i dirigenti scolastici. Proprio con questi ultimi noi abbiamo potuto ricevere un'informazione da uno di essi in modo particolare, scuola media e inferiore, che ci ha indicato un'attività di probabile spaccio nelle zone di Campomarino. La notizia è stata raccolta, è stata vagliata, è stata approfondita e in effetti i militari della stazione di Campomarino hanno potuto verificarne la fondatezza e dopo un'attenta attività info-investigativa individuare anche i responsabili. Questi soggetti, un uomo di 36 anni e una donna di 20, ieri sono stati assicurati da giustizia e è stata appunto eseguita questa ordinanza e attualmente si trovano agli arresti domiciliari. In generale la situazione non desta particolari preoccupazioni, però è evidente mantenere sempre la guardia alta, è importante avere un rapporto continuo con i cittadini, ma tutti gli attori che fanno parte della vita sociale, in questo contesto la scuola, gli insegnanti, i dirigenti, ma tutti coloro che sono a conoscenza di alcune informazioni, per cui è necessario informarne le forze dell'ordine. In questo caso è stato particolarmente importante poter ricevere questo tipo di informazioni perché le vittime erano di minorenni, in questo caso di 14 anni, quindi era fondamentale una informazione rapida, tempestiva, e la risposta delle forze dell'ordine c'è stata, questo dimostra che quando c'è la fiducia dei cittadini nelle istituzioni le risposte sono immediate.